Medio Oriente c'è stata una discussione molto approfondita, si è preferito ribadire le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo perché se avessimo in qualche maniera rinnovato quelle conclusioni probabilmente alcune divergenze avrebbero reso il lavoro difficile in ogni caso siamo tutti d'accordo sul fatto che occorra continuare a condannare gli attacchi di Hamas del scorso 7 ottobre ribadire il diritto di Israele a difendersi, a farlo nell'ambito delle norme internazionali lavorare su una soluzione di lungo periodo, due popoli in due stati abbiamo ribadito anche il lavoro sul fronte umanitario che l'Europa può fare e che l'Italia sta facendo abbiamo portato gli esempi di tante cose che voi conoscete e che non sto qui a ribadire ma alla fine diciamo si è preferito non scrivere un testo sulle conclusioni